A tre giorni dai roghi che hanno devastato l'attica monta la polemica. Decine di persone sono ancora disperse. Le squadre di soccorso continuano a perlustrare l'area, ma ci sono poche illusioni di trovare qualche sopravvissuto. I greci sperano che il mare restituisca ancora corpi, dopo i tre ritrovamenti sulla spiaggia dell'isola di Oubea, 30 km più in là. Il numero delle vittime è salito a 81, 60 ai feriti gravi, di cui 11 in terapia intensiva e 4 minori ricoverati in ospedale. Ci sono padri che nella fuga hanno perso i propri bambini, figli che cercano i genitori. La zona era costellata da villette fuori porta di ateniesi del ceto medio, in questo periodo abitate soprattutto da nonni e nipoti, cui le fiamme non hanno dato scampo. La cronaca è riporta di corpi carbonizzati, persino di neonati. Per molti è impossibile l'identificazione. Due terzi delle case sono da demolire, e la maggior parte erano fuori legge, con tetti di legno prefabbricati. È lampante che non esisteva un piano di sicurezza. Nessuno ci ha aiutato, dicono i residenti. Folle l'idea di chiudere la strada che porta a Maratona, l'unica via di fuga, intrappolando di fatto chi viveva qui. Con la crisi economica, molte famiglie hanno dovuto vendere o affittare le loro case in città. Il piccolo villaggio turistico di Marti, pur circondato da alberi, non aveva infrastrutture, tubazioni o manichette antincendio per i vigili del fuoco. In 20 minuti è bruciato oltre l'80% di edifici e piante della zona.